Polestar svela il concept O2 che ridefinisce le roadster sportive dell'era elettrica con la visione della Polestar convertibile hardtop. L'esperienza di guida della Polestar O2 è progettata per essere vivace, leggera e piena di sicurezza. Prevedibilità e giocosità sono fondamentali per una guida eccitante e vivace. L'elevata qualità e la rigidità della piattaforma in alluminio incollato sono orientate verso una maggiore risposta dinamica. La dinamica di guida è tesa grazie anche ai piccoli angoli di rollio. Chiaramente correlato alla concept Car Polestar Precept ma con il suo carattere distinto, l'aspetto di Polestar O2 mostra come il linguaggio di design in evoluzione di Polestar possa essere adattato a diversi stili di carrozzeria con una forte somiglianza familiare. La carrozzeria bassa e larga con un assetto deciso, un design compatto dell'abitacolo 2 più 2, sbalzi minimi e un passo lungo incarnano le proporzioni di un'auto sportiva classica ma con una sensazione chiaramente moderna ed elettrica. Nel concept Polestar O2 il poliestre riciclato è l'unico materiale utilizzato per tutti i componenti morbidi degli interni. In un mondo sempre più guidato dai social media Polestar O2 è dotato di un drone cinematografico. è dotato di un drone cinematografico autonomo integrato dietro i sedili posteriori. Sviluppato in collaborazione con il marchio di elettronica di consumo di aereo Fujia Hoku Flow, il concept drone può essere schierato mentre l'auto è in movimento per registrare la sequenza di guida perfetta. Gli ingegneri Polestar hanno sviluppato un profilo aerodinamico specializzato che si solleva dietro sedili posteriori per creare un'area calma di pressione negativa che consente al drone di decollare quando l'auto è in movimento. Il drone funziona in modo autonomo seguendo automaticamente l'auto a velocità fino a 90 km all'ora e il conducente può scegliere tra una sequenza suggestiva, ideale per una crociera costiera, o una sequenza più ricca di azione con un'espressione più sportiva. Dopo le riprese il drone può tornare automaticamente all'auto. I videoclip possono essere modificati e condivisi direttamente dal display centrale da 15 pollici quando l'auto è parcheggiata. Grazie per la visione! Grazie per la visione!